Chiedono che chi ha sbagliato nella gestione dell'ordine pubblico di quel maledetto pomeriggio del 3 maggio paghi. Per questo, gli amici e i familiari di Ciro Esposito, il giovane tifoso napoletano ucciso a Roma durante gli scontri con supporter giallorossi prima della finale di Coppa Italia con la Fiorentina, hanno indirizzato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e al Ministro degli Interni, Angelino Alfano, una petizione popolare per chiedere di accertare eventuali responsabilità colpose per omissione del prefetto del questore di Roma, rispettivamente Giuseppe Pecoraro e Massimo Maria Mazza. L'iniziativa è stata promossa da Chiara Giordano, Presidente di Campania di Movimento e amica di Ciro Esposito, che ha presentato la petizione in un incontro all'auditorium di Scampia. Insieme a lei, anche la mamma di Ciro, Antonella Leardi, e lo zio del giovane partenopeo, Vincenzo Esposito. Ritengo che ci siano anche delle responsabilità amministrative, perché se sul posto ci fossero stati i poliziotti, perché c'erano i poliziotti, ma non lì, se sul posto ci fossero stati i poliziotti forse Ciro sarebbe ancora vivo, perché è stato fatto un vero e proprio agguato. C'è stata chiesta dalla cittadinanza italiana questa petizione che noi abbiamo riflettuto e abbiamo ritenuto opportuna farla, perché è il popolo che vuole giustizia, perché al posto di Esposito Ciro ci poteva essere chiunque. Noi come famiglia dal primo giorno abbiamo detto che ci sono delle defaianze nella gestione della cosa pubblica, questa posizione è stata espressa dal giudice Cantone, da altri autorevoli dirigenti, dal sottosegretario Giacchino Affano che ha detto che se ci sono state delle cose lo Stato deve intervenire anche rimuovendo chi è responsabile. Grazie a tutti.